Si affrontano quindi SC Mazzarese contro Nissa FC Andiamo subito a leggere le formazioni Iniziando appunto dalla squadra ospite Che vedete in campo con la maglia bianca, calzoni neri E' partito proprio adesso L'incontro ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! Subito all'inizio Giardina! Giardina! All'inizio Ed è gol dell'SC Mazzarese Giardina!